Buongiorno a tutti, sono Irene Mosele, sono psicologa e sono referente dell'area psicologica dell'Associazione Memo. Nei video precedenti abbiamo parlato di quanto sia importante la prevenzione per la riserva cognitiva che ognuno di noi ha a disposizione. Oggi faremo un breve focus sul concetto di memoria e analizzeremo le tecniche per una memorizzazione efficace. Che cos'è la memoria? La memoria è una funzione cognitiva, esattamente come il linguaggio, le funzioni frontali, le capacità di pianificare e tutte le altre abilità che noi abbiamo a disposizione. È una capacità del nostro cervello che ci consente di immagazzinare e conservare nuove conoscenze del mondo circostante. Poiché tutte le informazioni sono trattenute per lungo termine, siamo in grado di agire e pensare sulla base di esse, quindi nuovi apprendimenti sono influenzati dalle informazioni precedentemente acquisite, concetto di esperienza. Infine, tengo a sottolineare che la memoria è un'abilità che dipende dalle tecniche che ognuno utilizza, non è una capacità innata, pertanto l'allenamento può aiutare a migliorare il rendimento della memoria. Facendo un breve focus è necessario considerare che la memoria non è una funzione globale, bensì esistono diverse tipologie. In questo caso è giusto parlare di una memoria sensoriale, una memoria a breve termine e una memoria a lungo termine. La memoria sensoriale è una memoria molto molto breve che ci consente di intrattenere le informazioni sensoriali per alcuni secondi. La memoria a breve termine serve per trattenere le informazioni per circa 10-20 secondi ed è molto importante per tutte quelle cose che facciamo nel breve termine. Per esempio, mentre si ascolta parlare qualcuno, la memoria a breve termine ci consente di tenere a mente il discorso che sta facendo. Oppure, quando ci viene dato verbalmente un numero di telefono e riusciamo a tenerlo a mente, lì stiamo utilizzando la memoria a breve termine. Infine, la memoria a lungo termine è la memoria che ci consente di archiviare in modo permanente le informazioni. Più lavoriamo sulle informazioni che abbiamo acquisito, più tenderemo a tenerle a mente. Se invece le informazioni le acquisiamo e non le tocchiamo per molto tempo, non ci lavoriamo, molto probabilmente quelle informazioni decaderanno per cui non le avremo più a disposizione. Ora passiamo a una piccola fase pratica nella quale vi darò qualche suggerimento per creare delle memorizzazioni efficaci. Il primo suggerimento che posso darvi è quello di analizzare il materiale e cercare di dare un significato specifico alle cose che dobbiamo ricordare, per esempio attraverso le associazioni. Abbiamo per esempio due parole che vengono spesso confuse, stalattiti e stalagmiti. Se analizziamo per bene il significato delle parole e la loro conformazione, notiamo che le stalattiti pendono dal soffitto, dal tetto. Possiamo quindi notare che tutte e tre queste parole, stalattiti, tetto e soffitto, contengono la doppia T. Ecco che abbiamo una grandissima facilitazione a ricordarci la differenza tra le stalattiti che pendono appunto dal tetto e le stalagmiti che invece si ergono dal basso. Stessa cosa per la distinzione tra cammello e dromedario. Il cammello nella parola possiede due doppie, la M e la L e infatti il cammello possiede anche due gobbe. Il dromedario invece ne ha soltanto una. Un altro suggerimento fondamentale è quello di organizzare il materiale da apprendere e qui entra in gioco il concetto di categorizzazione che trovo sia la tecnica più importante per memorizzare le informazioni. Categorizzare significa suddividere gli oggetti o la lista di parole o i concetti che vogliamo assimilare cercando di creare qualcosa, un insieme che sia simile, quindi unire tutti gli oggetti con caratteristiche comuni e con funzioni simili. In questo modo noi non dovremmo ricordare una serie infinita di parole, bensì riusciremo a ricordare gli insegni che abbiamo creato e da lì avremo l'input per ricordare ciò che contiene quell'insieme. Un altro strumento sempre utile fatto con l'organizzazione del materiale è la creazione delle rime e quindi di una fila strocca. Per esempio per ricordare i mesi dell'anno e i giorni che ogni mese ha, sin da piccoli ci viene insegnata una fila strocca in rima che ci consente di riportare alla memoria queste informazioni. L'utilizzo del ritmo per esempio nella fila strocca è molto utile per riportare alla memoria queste informazioni. Infine una tecnica che viene frequentemente utilizzata dai visualizzatori, cioè coloro che ricordano molto più facilmente le informazioni attraverso la memoria visiva. In questo caso per ricordare delle parole, una lista di parole, dei concetti molto specifici è possibile creare un'immagine mentale. In questo caso per esempio andremo ad utilizzare a convertire parole, testi, concetti, liste di parole in alcune immagini. Più le immagini sono vivide, esasperate, familiari e in movimento più sarà facile ricordarle. Inserirle all'interno di un'unica fotografia che possiamo ricordare ci consente di prenderla dalla nostra memoria, prendere questa fotografia che abbiamo creato dalla nostra memoria e scorrerla per riportare alla mente tutto ciò che vogliamo ricordare. La sessione di oggi è terminata, spero di esservi stata utile. Noi facciamo moltissimi corsi per quanto riguarda la prevenzione e anche molti corsi per quanto riguarda il trattamento delle demenze. Vi auguro una buonissima giornata, a presto! Grazie per la visione!